Super ciao ragazzi miei e bentornati su Astropot, sul mio canale io sono Enrico, 0dx, è arrivato ottobre, si doveva trottare e invece siamo ancora qui con Astropot al dodicesimo episodio, vero? Dodicesimo episodio e dobbiamo andare a la terza, la quarta galassia, attenzione, una di queste due, ma prima dobbiamo andare a sbloccarla al campo base, Giustamente siamo rimasti un po' indietro ragazzi e così, si e lo so, è passato un mese dall'uscita di Astropot e devo cambiare la skin perché tanto, in realtà uno ha detto no no rimetti la skin Enrico di Astro, giustamente, bella, 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 altra parte, giusto, è giusto, è giusto così, nel frattempo ci sono anche cresciuti i capelli, benissimo, va bene, va bene, va bene, ce ne faremo una ragione, probabilmente sto ci durerà fino a Natale a sto punto, no, fino a Natale no, però Mi sa che tutto ottobre ci otteniamo, ma tanto dai, chi se ne frega, tanto i video bene o male, uh, bene, anche quelli che, cioè, più che si va avanti con i numeri e più le visite calano, però vedo che col tempo recuperano, quindi non è, non è un brutto segno sinceramente, grandissimo Vedo che comunque il canale sta andando benissimo, quindi la crescita c'è, uh, quindi si va così, si continua così, ciao Oh, cosa? Boh Che spettacolo Quindi il terzo mondo è, il quarto mondo è tutto quel ghiaccio? Mondo ghiacciato? Madonna, ma io devo pulirla tutta questa neve Dove siete? Devo andarci anch'io, giusto? Vai Ma che spettacolo Che spettacolo Ottanta Eh, ma qui si va dal bot, preferirei andarci, boh, vediamo dove si va Ah, no, aspetta, un ponte? Uno Dai, su, vai Cosa? Eh, no, ma si, eh, vedi, vedi, c'è l'uscivolo, no, qui ci dobbiamo andare dopo Madonna Ma poi senti, vibra sempre, costantemente Cioè, Astro Ha paura Guarda così perché ha paura di, di cadere Però giustamente Prima dobbiamo andare qua Aspetta C'è Nadine E anche, eh, Nathan Drake c'è C'è Nathan Drake Perfetto Ah, no, no No, i no No, allora è di qua che si è arrivato Ah, devo tornare lassù Paton Vabbè, vabbè, vabbè Moneta Rotto il pupazzo dal ritmo di musica Allora andiamo là Non avevo mai iniziato Ah, 200 Non avevo mai iniziato un episodio facendo queste sfide No, qui ti porta No, 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 no Questo si può fare Forza, 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 forza Ma quanto, cos'è uno dopo l'arto? Il pupetto di ghiaccio sembra acciaio Non è ghiaccio, è ghiacciaio Il ghiacciaio è un ghiaccio d'acciaio Cosa sto dicendo? Fantastico Ma se io lo rompo, scusa Cosa? Va bene Segretino Chi può essere? Di ghiaccio Qualcosa che avrà a che fare con Natale? Col ghiaccio? Al ritmo Ah, Flower Flora rigenerante Porta con sé il potere curativo della natura E Flower è uno di quei giochi PS3 Che dovete giocare Se non... È tipo Journey Tipo Flow Anzi, dagli stessi creatori di Flow e di Journey È uno di quei giochi che vanno giocati Perché Flower mi rimase veramente, veramente impresso È una... Più che un gioco è un'esperienza Quello che te sei un petalo di fiori Devi andare nel vento È bellissimo Recuperatelo E colpiamo il ghiaccio E torniamo alla nostra sfida di prima Crash Dai Dobbiamo arrivare lassù in cima Ma c'è anche il vento Ma loro sono rimasti lì Guarda com'è bello Ma guarda com'è sono belli i locchini Locchini di astro Così Locchini da bambino Proprio così Luminosi Dai, ce l'abbiamo fatto Un altro segreto Ah Il coso Chi ci potrà essere qua? Arancione Ma tanto non ci si indovinerà mai A ritmo di musica è anche questa? Sopravvissuto urbano? Un adorabile piccolo predatore Non so chi tu sia Pazienza Eh, però vedi che ci si arriva lo stesso di qui Qua Quasi, quasi, quasi Va bene, va bene Andiamo dal nostro Come si chiama quello lì? Quel bot Lui Il nostro amico spaziale Oh, ciao No 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 Aspetta Salvalo La neve che casca Ma che spettacolo Eh, io ora però ho bisogno Aspetta Qui c'è un ponte di sicuro Eh, vedi, vedi, vedi Io ho bisogno di Di fare tutto Di pulire tutto Di fare Che bellezza Boh Ti 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 Io mi diverto così Mi diverto male Pala gente non guarda i video Per forza Al ritmo Da giusto Giusto Non era un colpo Era Un'invocazione dei bot Per sbloccare Per tirarlo fuori dalla neve Eccolo Uh 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 Bello 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 Quarta galassia Sarà quella lì In senso orario Eh, sempre quella Perfetto Perfetto Sarai quasi tentato di fare I livelli segreti I livelli segreti Invece no C'è ancora un bot Da sbloccare qua L'ho visto prima Non so dove sia Dov'è? Eccolo Fermo Fermo Vieni qua Vieni qua Piano Cos'è? No Un altro No Non mi piano No vabbè Sì Va bene Vabbè Pixel scatenati 3 Va bene Alla bisogna Alla bisogna Si fa anche questo Non che sia Va bene Dai Mission E che sono un po' troppo facili Questi Mini livellini Via, 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 via Non perdiamo tempo Madonna No cazzo Vieni giù Ah loro mi sparano Attenzione No Ma sono facili Questi livelli Sono facili Si Oh Cos'è? Chef prodigioso Il nemico giurato Degli scarafaggi Chi è? L'ho già visto però L'ho già rivisto L'ho già rivisto Può essere un personaggio Di Fat Princess L'ho già visto Quel cuoco Chi se ne frega Andiamo 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 Mimeticosmi 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 Eccolo Forza la cpu A giocare Alla pallina Bebe day Tutto arancio Quindi non c'entra niente Il mondo ghiacciato Oddio In realtà Il tema varia Da livello a livello Si parte però Con il livello Egiziano Piramide Dei Gero glitch Gero glitch Vediamo Vediamo Si è chiusa Senti la musica Senti la musica Senti che mood Zeldoso Che c'è Mi ricorda un po' Boh Zelda Non so perché Bellissimo Non si era ancora visto Un livello Nel deserto O sbaglio O si Non mi ricordo Che bellezza Che bellezza Qui c'è un bot Però Poi Vediamo Quassù Perfetto Ma senti che bello Che bello Ragazzi Seguitemi Su Twitch Perché Molto probabilmente Presto Mi rigiocherò Tutto Astrobot In live E quindi Immagino che Vorrete essere Dei nostri Cosa Ovviamente C'è anche da fare Metal Gear Solid 2 Su Youtube Però quindi In live Arriverà anche quello Non so quando Non so come Ma arriverà anche quello Wow 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 Questo è proprio Sembra a livello Di crash Anche questo Ecco vedi Un'altra cosa Che potrei Eh Eh oddio Vedi vedi La stavo per dire Ma Stavo per dire Una cosa Che mi ha subito Contraddetto Cioè stavo per dire Che i nemici Di Astro Sono un po' tutti uguali E invece no Appena l'ho pensato Subito è apparso lui Che è diverso invece Come l'ammazzo Perché è vero Che sono un po' tutti uguali Nonostante gli cambi La skin Tipo qua C'hanno la skin In versione egiziana Però effettivamente Sono un po' tutti uguali Se non che Ad ogni mondo Aggiungono dei nemici nuovi Questo è in effetti Il nuovo Mi è piaciuto tanto Quello del mondo precedente Col bullone Quello mi è piaciuto tantissimo Dove sei Ah Quindi Sì vabbè I nemici restano Cioè la sfida In Astro Resta sempre Grosso modo Semplice Anche se ci sono diversi Spike Di difficoltà Con le sfide Dei simboli Però Per ora è rimasto Tutto abbastanza contenuto Non so Sul finale Come andrà Ma Spero entro il mese Si possa scoprire Chissà se in questi Geroglifici Ci sono delle chicche Ecco Astro Successo Benissimo Astro Con la tazza Il T-Rex Della PS1 La presa Della PS1 Sì sì Un po' di Di easter egg Ci sono Astro Successo Però Bellissimo Vabbè C'è il suono Il suono Che cambia Ad ogni teschio Bellissimo 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 Attenzione 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 Cazzo No Devo prendere tutto Ok Devo usare questo Come ascensore Ma prima Come ho fatto a non pensarci Aia Va bene Va bene L'ho vista L'ho vista Però visto che siamo tornati giù Su No ma vedrai Andando su Si va avanti Io devo andare Quindi questo era un segreto Era un segreto Ok Ah Vedi chi c'è C'è una certa Predatrice di tombe Che cammina piano È arrivata al tesoro Però dobbiamo camminare piano Per non farci sentire Dalle piattaforme E se io tocco questo Bellissimo Bellissimo Vedi Queste La moneta Ciao Queste piccole gag Sono bellissime Questi piccoli Giochini Non sono proprio segreti Sono giochini Piano 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 Via Ho svegliato Lara Uh Io vorrei poter usare Questa skin però Cosa c'ha al collo Perché c'ha quel Coso al collo Quel ciondolo al collo Quando cacchio C'è l'acqua Quel ciondolo al collo La tombraide Lara Croft Archeologa Aristocratica Intrepida icona D'oltremanica Fatta anche rima Intrepida icona D'oltremanica Va bene Va bene Ho preso comunque La moneta Però devo provare Il trampolino Devo vedere come funziona Vediamo Ah ti riporta su così Ok Bellino Bellino con gli sportellini Ops Aspetta Qui cosa c'è Ho sbagliato Sono Sono morto male No ci deve essere Per forza Qualcosa qui sopra Ma 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 ovvio 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 Per caso Si torna Topolini Qui L'UFO Guarda c'è L'UFO Simboli Simboli Playstation Bellissimo Ricorda un po' Anche Patapon Ricorda un po' Patapon C'è un sacco Di cose Qua Una bandiera Cos'è Sembra Yoshi Aggiù c'è un bot Vediamo un po' Cosa succede qua Niente No qui Ci vuole un potere Qui ancora non abbiamo trovato il potere Boh Andiamo a vedere Eccolo Ma No Altre gemme Oddio Ma bellissimo E i vasi hanno altri gemme dentro Ma poi Prova a mettere il pad sul microfono Non si sente Non si sente la vibrazione Forse Forse si sente Non lo so Ma C'è Avere il pad in mano Mentre passi tra le gemme E senti vibrare Tutto proprio Bellissimo Ops Intanto c'è Il bot che sta cercando di uscire Dallo scrigno Queste interazioni Messe solo per fartici giocare Sono una cosa Straordinaria Guarda come brilla tutto Anche troppo Questo di sicuro Sarà sfondato su youtube Basta Se no davvero Rovina il video Bellissimo Guarda come è bello Vieni Topino Ah no Ah la palla Che poi è tipo una penta Ecco a cosa serviva Quella fessura di prima Non a entrarci come topi Ma Aspetta Tra l'altro è bello Che ritieni comunque Tutte le funzionalità di astro Normali Come tutti i poteri Del resto Guarda come si vede bene Che lui è pesante Vedi Ti dà proprio Pum Pum Un senso di pesantezza Guarda Guarda quando fai così Quando io criticavo Nel 2020 Nel lontano 2020 Quattro anni Quando quattro anni fa Usciva Crash 4 Di cui abbiamo festeggiato L'anniversario Due giorni fa Il 2 ottobre 2024 Appunto sono stati quattro anni Da Crash 4 Ho fatto una live Celebrativa Dei quattro anni No Perché? Perché non c'è niente da festeggiare Quindi Quando io criticavo La panciata di Crash Come sono stronzo Quando criticavo La panciata di Crash 4 È così che si fa Un'animazione Pesante Non ci vuole la scienza Ragazzi Se Se Andiamo avanti Tanto il tempo Mi ha dato ragione Quindi Ho ragione Non che me ne faccia niente Della ragione Però Ho ragione Un serpettino Va bene Vedi che si va Quasi Però aspetta Allora questo serve a qualcosa Forse va Va rotto Porca miseria Porca miseria Porca miseria Tutto Volevo sapere Chi sarà L'altro personaggio Non credo Sarà un personaggio Di Tomb Raider Questo Questo è Bellissimo Ecco un altro nemico Ah Mi sta aspirando Mi ha aspirato E l'ho rotto Perché Ero Ero Compattato Madonna Ma poi le animazioni Cazzo Non mi ha fatto male Però Non mi ha fatto male Possibile Però Alla È Giusto Bucchino 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 Ho fatto Ho fatto buca Ah ok Loro non li ammazzo Devo per forza Scompattarmi Perfetto Ah guarda 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 Devo aspettare Che sia la direzione Giusta Chi ho Bellissimo 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 Davvero Questo livello Ma ogni volta Si Eh Devo arrivare lassù Mi sicuro Sì Lì si prosegue Ma io mi devo far sparare Lassopra Ogni volta si superano C'è ogni volta Ehm No No Non è vero Non è vero Allora laggiù c'ero prima Ok Momento di distrazione Aspetta Ogni volta Davvero Riescono a sorprendere Oh Bellissimo Come si gonfia Oh Segretino Ah Devo Devo sfondare La tela No Non la devo sfondare Secret Eh no Però qui si va A livello segreto No No Non è vero L'ananas Oh Ma che spettacolo è Ma cosa sto guardando Ma cosa cazzo sto guardando Ma chi sei Chi sei Chi è Prince of Persia Chi è L'ho già visto 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 È uno di quei personaggi Già visti Ma che non riconosco Perché non ci ho mai giocato Vabbè I commenti sono Messi lì apposta Bellissimo Io vorrei fare Tanti video Su Astro Non gameplay Parlando proprio di Astro Ma non so neanche da cosa comincia Perché È incredibile È incredibile Va bene Va bene Va bene Va bene Torniamo avanti Torniamo avanti Andiamo avanti Eh Siamo alla fine Però Eh C'è ancora un bot da trovare E il segreto da trovare Quindi Beh oddio Ho tantissima voglia Di Di saltare qui sopra Ma è così eh È così Madonna Tutti i diamanti I rubini Oh Oh no Oh no Ma 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 perché Perché Qui YouTube Sta comprimendo Tantissimo Lo so già Tanto non si torna Neanche più indietro Ora Una cascata Infinita Di diamanti Di gemme Ma perché Noi mi ci viene veramente Mi viene voglia Di Di piangere Fortissimo Questa è proprio Lupulenza Grafica Possiamo farlo E lo facciamo Perché sì Che meraviglia Porca miseria Porca miseria E non ho trovato Un bot Tanto era a metà Quindi Era a metà Quindi dobbiamo rifarci Un po' Oh no No Quello dell'acqua Si fa subito Cos'è quest'altro Cos'è Quello dell'acqua L'aspettavo Chi semina vento Wow Facciamo quello dell'acqua Perché l'aspettavo Di bolla in bolla Lo aspettavo Però prima dobbiamo andare A trovare segreti Il bot Il bot E il segreto Ma più che altro Mi interessa il bot Tra l'altro il bot È dopo Lara Croft Quindi Non userò L'uccellino Ecco Questo è il bot Subito dopo Lara Croft E io lo trovo Subito dopo Questo qua Quindi il prossimo bot Forse qua sotto Qua sotto No Non è vero Non è vero Allora andiamo di qua Guarda È là sotto Guarda C'è la parete Con le manine Non l'avevo vista Quindi qua sotto Eccolo qua Andiamo un po' E Eccolo Altri Altri gem Bellissime Però Va trovato il segreto Ancora Wow Che bello È troppo bello Che poi sono più piccole Delle gemme Dei diamanti Trovati nel code Pirati Queste sono proprio gemmine Quelli erano diamantoni E il segreto Dove cacchio Eh Boh Non lo so Non so dove sia Sto segreto Ma perché Sotto forse Tocca prendere L'uccellino Non lo voglio Prendere l'uccellino La Eh Lassù Lassù È lassù È lassù È lassù È lassù È lassù Qui c'è qualcosa C'è un buco No Ma io c'ero anche venuto Qua prima Non me ne so accorto Ho rifatto il livello Due volte per niente Perché tanto Ero già alla fine Qui Oh mio dio Oddio Una sala del tesoro Con le No Cosa Ah Non è così semplice Oh dov'è Ah era il primo L'ho sentito mai Eccolo Io ho quasi paura A salirci Oddio Oddio Ma cosa sono Coppette Sono coppettine Palline Ah No hanno Hanno la forma dei missilini Sono dei missilini Sono dei razzetti Ma quindi si riempie Ma quindi si riempie all'infinito Cioè se io spazzolo tutto Ma te guarda come mi fanno giocare Ma come cavolo si fa Fa diventare così una persona Vedo a parte dei gameplay Finito Già finito Due livelli In mezzo minuto Ma come fai giocare così Un gioco con una magia Senza precedenti E forse anche senza successivi Che fai a rovinarti Un jogger jam Ma io sono contento Che mi stia durando Già più di un mese Comunque hanno finito Di buttare Le Le coppette Vuol dire che dopo un po' Finisce Za Vabbè Giusto perché siamo In un gameplay E dobbiamo andare avanti Andiamo Dobbiamo fare il livello Del mare Assolutamente E facciamo sabbia E mare E i livelli segreti sono Non sa essere tanti Galassia perduta Wow Tirare avanti Ma qui no Ah no 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 Ok sono tutti Non mi ricordavo D'avrei preso questo Fronte che scotta Mamma mia Ormai Tanto vale prenderli tutti Vabbè Andiamo avanti Livello Acquatico Come si chiamava? Di bolla in bolla Qui immagino Che sarà tutto Sott'acqua Oddio Cioè già così Io mi sento male Bellino 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 Cos Ma perché nella vita reale I fiori non suonano Quando li tocchi Sai bello Un campo di margherite Ci metti Ci metti la mano sopra E invece no La realtà è triste Ha fatto pluff O pluff Le stesse Stelle marine Di playroom Che c'era La gag Andate a vedere La live Dove ho trovato Le I bot segreti Andiamo Vediamo come Se la cava Astro Con un livello Acquatico Che sappiamo Essere i livelli Più noiosi Dei platform Già così Già così È fuori testa Senti la musica Senti la musica Subito Oh pinguino Pinguino razzo No Per lì Ma devi sentire Il bate Si sente Proprio come Un motorino Che gira Un'elica Io ragazzi Non ce la fò più Come fa Io Devo vivere qui Giocando Astro Sempre Io lo finisco Lo ricomincio Lo rifinisco Lo ricomincio Senti la musica Posso aggrapparmi? No Ste tartarughe Però aspetta Devo andare lì sopra Sul cavetto C'è un modo Per arrivare Ma il pinguino Vola anche su No Ah vedi Quindi il rumore Di elica Che dicevo In realtà Sono le pinne Se io clicco Lui funziona Lo stesso Ma giustamente Fuori dall'acqua Non funziona Senti l'ukulele Quindi non ci si arriva Su quel cavo Sembra strano Meno che non si tornerà Dopo Cioè se io ne pigio Uno va A una velocità Se ne pigio Due va Più veloce No No è vero Va uguale La mia impressione Senti la musica Senti la musica Aspetta cos'è che mi ha detto Se io pigio croce Lui va veloce Ecco come si arriva sul cavo Così Amico Devi arrivare sul cavo Ma non c'è niente Ma cosa beccano Non c'è nulla Cioè quindi questo cavo E' messo così solo Una moneta Una moneta Una moneta Una moneta No Ma come no E' stato difficile Non mi apre mia Ma secondo te Secondo te Un cielo è una moneta Cioè questo è già Già più così E' già a livello acquatico Più bello dell'universo Le banane Finiscano nell'acqua Ma io mi sento Ma io mi sento Io mi emoziono Vedete le banane Nell'acqua Ecco si Ecco si Quello che pesca Le banane Vai nell'acqua Vai nell'acqua Però ha perso la Ah da dove si è tirata fuori Un'altra canna Scusami Ah ce l'ha qui C'ha Un assortimento di canne Va bene Da pesca Ho dovuto specificare Ma Mori E' tutto così pacifico Astro Cioè addirittura Addirittura salgo le cascate Ma poi quando esce dall'acqua Fa il suonino Sono dell'arpa Aia No aspetta Bisogna rifarlo A parte prendere la musata Sulla sabbia Bisogna fare di nuovo il salto Così Da dentro l'acqua però Dentro l'acqua Cioè io sto giocando Con un bambino Su No no E' difficile E' difficile E' difficile Ci devo fare Ci devo fare Ci devo fare Zù Ne è varsa la pena Ne è varsa la pena Astro Ma non è bellissimo Tutto questo Ma che spettacolo Questo Moio Se lo tocco Moio Per forza Ah ok Ok Addirittura E' inavvicinabile C'è qui Ok Sembrava Sembrava un pertugio Invece no No E' inavvicinabile Inavvicinabile Io voglio già Astro 2 Eh oddio In realtà Potrebbe anche volerci Più tempo Del Cioè Non è Non è Non è così scontato Che loro facciano il 2 Subito Magari uscirà Fra qualche anno Io lo so Madonna Ma è bellissimo Ora non vorrei dire una bestemmia Ma a me questo rivello Rivello Questo livello Mi ricorda tantissimo Un livello di croc Se gli entro da No 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 Non si entra Da nessuna parte E' elettrico lui C'era un livello di croc Che era molto simile C'era le grotte Con l'acqua In questo modo Ma non posso ammazzarlo Neanche così lui No no E' invincibile Va bene Ci sta Oddio La stella maria È intrappolata Cambiamento musicale Che è oh Ho chiuso la porta Voglio andare sopra l'arco Oddio Sta musica me la ricordavo Me la sono spoilerata Ma è bellissima Sembra molto La sirenetta Questi sono riusciti A rendere Un livello acquatico Bellissimo Ho i brividi Ho i brividi Ho i brividi La lampadina pure Io 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 non sto esagerando Io sono veramente Emozionato E' bellissimo Questo è un mostro Però Chi è? Ah Cos'era? Un ratchet Cos'è quello lì? Ma guarda là E' meccanico Robotico Ma è pure 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 Sembra comunque Tessuto Biologico Lo sai te Ma cos'è? Lombax Compagnolo di forma felina Pronto a seguire il padrone Con miai ostria Qualcosa di Boh Giochi GDR Giapponesi Ve lo direte Anche questo Mi dispiace Io ho tanti giochi Effettivamente Non Non li conosco Però Ragazzi Come si fa? Devo Sono indietro Dalla bocca Incredibile Scusami Scusami Spoo Che poi la luce Ma non Illumina nulla La luce Però è bello Ma poi lo scheletro Di un robot Perché si è spenta? Ah però Vedi Le superfici Le illumina Guarda Non illumina l'ambiente Ma le superfici Si Quindi Vediamo Si Se l'attacco è più pesante Lui Va più piano No Io ho i brividi Ho i brividi E non è freddo Ah Ancora Con tutti i rubini Bellissimo La fisica di questo gioco È fuori di testa Boom Io sono sterrefatto Bellissimo questo livello Tutto aperto così Ah Ok L'aria mi butta su Guarda questo C'è un botto infilato nel Cos'è questo? Ok Un pesce C'è un botto infilato nel Nel vulcanino Quello Faccio anch'io Lo faccio anch'io Non l'ho preso Es Trofeo Di cerchio in cerchio Sei passato attraverso Gli anelli di bolla in bolla Madonna ragazzi Ma che gioco è Questo Ragazzi Ma che gioco è Ma poi Dopo Cioè Questo è il quarto mondo E dopo Quattro mondi Ancora riesce a sorprendermi Così Cioè Dopo tre mondi Che sono stati Uno più bello Dell'altro Cioè Riesce ancora Ad essere così Tanto Straordinario Si ricolpisco L'occhi Non mi fai male Vero Ups Non si Ne insistere Oh Oh E pigia la pressione La Sì La pressione Dai Dai Io Su Difficile Difficile Oh Abbiamo questo Ah guarda 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 E' triste la stella Per un attimo era contenta però, ha visto? Contenta che almeno una mano Le abbiamo liberate L'ombre dei pesci Ma è enorme E' enorme questa parte C'è il segreto anche? No, ok Aspetta, eh vabbè ci sono tutte le casse Ma non so se ha senso che le stia A rompere tutte Vabbè andiamo qua E' l'ultima, ok La tartaruga aspetta La devo prendere Quello non l'ho fatto O si? No, non l'ho fatto Le pepite a forma di polpi I lingotti anche Ma poi che musica Aspetta c'è un bot qui sotto Me l'ha sembrato Me l'ha sembrato Questo livello qui E' proprio nel chill Più totale Eccolo E' un po' che non ci si vedeva Zà, 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 zà Rompi tutto, rompi tutto Zà Finito Però Mancano ancora Due botte da trovare E se non sbaglio Ancora un pezzo del puzzle E' tornata la musica Della spiaggia Se non sbaglio Eh, boh Saranno qua sotto Che non ho tanto esplorato Qua sotto Se non sbaglio Eccolo qui Guarda Eccolo lì Ah, coso Ehm, non mi ricordo come si chiama Ma ho presentissimo Il gioco del Quello lì Polpo segreto Nessuno sospette niente Sì, non mi ricordo il nome Gioco indie Uscito anche su Playstation Vabbè, avete capito Sicuramente di cosa si tratta Però ne manca ancora uno Ne manca ancora uno Ho paura che andando qua Poi non si torni più Qua, guarda un po', guarda un po', guarda un po', dove sei? Lo dobbiamo seguire Andiamo Andiamo Ma questo non sarà facile, eh Va preso, eh Va preso perché scappa Va preso al volo Questo non si piglia più Stop Ma come faccio a prenderlo? Forse da sopra Vediamo un po' Forse da qui? Non credo Ma si muove lo stesso E ride anche Ride, bastardo Non credo Non credo che lo devo prendere proprio al volo Ah, da sotto forse? Così? Donna ragazzi O vieni qua Ma come cavolo si fa? Io c'ero, c'ero C'ero Io vado Ho toccato anche Io non capisco se devo toccar Forse devo toccar solo il bot Però non devo mirare al All'UFO Dove sei? Dove sei? Piano, piano Piano Non mi vede Non mi dovevo far vedere Non è che lo dovevo prendere al volo Non dovevo farmi vedere Basta 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 Cosa? I conchigli che camminano Ma cos'è? Pagurone Mega paguro Senti la musica Io bimbi Non 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 No Ah, perché la musica cambia In base a quest'area qua Ho capito È Octopus Daddy Una roba del genere Non mi ricordo Livello 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 eccezionale Questo qui Cioè Ho fatto due livelli Tutti e due Meravigliosi Come si fa Andavanti Usi qui Come si fa Sono tutti uno più bello Dell'altro Aspetta Aspetta Dai Abbiamo iniziato con pixel scatenati Finiamo con pixel scatenati Uh Tutto azzurro Sabe che me l'ammaginavo? Immaginavo Ok Prima c'era l'Arcaneo Ora c'è il pollo Zaa Bellissimo Bellissimo No No Bastaso Aspetta 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 Ora Ancora Sono tantissimi Wow Andavamo a questa roba Sì Ma sono tutti Personaggi Dei vari Picchiature Dei vari Street Fighter Tekken Autista Malleabile Suono Inventare Pilota Del gran Tunismo Anche lei Mi sembra I personaggi Lì Vabbè Bisogna chiude Bisogna chiude Anche questo video Io ne farei Altri Ho proprio voglia Di giocare Sono stato Troppo Meravigliato Da questo Ancora Niente Niente Sfide Sfide Particolari Torniamo Anzi Alla nostra Nostra Nostro Campo Base E chiudiamo Questo video Perché Sennò diventa Troppo lungo Eh ragazzi Che astro Che astro Questo astro Siamo arrivati A 160 Sì Lara Croft Sì Il cuoco Boh Non lo so Ma qui C'è sempre Qualcos'altro Da vedere Devo fare Durare un'ora E mezza St'episodio Il parco Safari Qui c'è ancora Roba Cos'è quindi Il parco Safari Andiamo a vedere Qua La proboscide Che roba è Cosa Prossimo video Prossimo video Prossimo video Se è troppo lungo Mi dispiace Prossimo video Andremo a esplorare Subito Il parco Safari No Non dovevi andare via Ragazzi È stato Un episodio Veramente pieno Di bellezza Forse Forse addirittura Più che Degli altri livelli Gli altri video Perché questi due livelli Sono stati Tutti e due Eccezionali Tutti e due Da dieci Veramente Iscrivetevi Commentate Lasciate un Mi piace Perché è importante Guardate anche L'altro video E ci rivediamo Al prossimo video Di astro In questa serie infinita Che durerà Non si sa Ancora quanto Ma durerà tantissimo Grazie a tutti Ciao 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 Ciao